Secondo lei in Italia la prima strada per trovare il lavoro è ancora essere amico di, mi manda lui, il curriculum insomma conta? Il mio libro precedente si intitola Non siamo figli contro figure ed era proprio la battaglia contro l'essere figli di che intanto ha rovinato anche l'accezione per cui essere figli di significa anche essere assoggettati, dover ringraziare e non perché... Ho capito ma c'era anche la servitù della gleba una volta eh? Sì, io credo molto in un curriculum non tanto quello europeo Dostoy ha scritto anche dei libri, ha scritto dei libri anche lui come lei sa perfettamente e anche Dostoyevsky E dunque, e allora nella letteratura russa c'è il racconto straziante di questo determinismo fatalistico per cui se uno nasceva figlio di un culaco, lui, i suoi nipoti, questo è inaccettabile non vorrei che si creasse l'idea che anche qui, siccome io ho studiato dovevo per forza fare un lavoro legato, perché lo studio diventa come una specie di diritto di discendenza Lui ha studiato ma poi adesso farà un'altra cosa Sì, ha una condizione un po' più fortunata La cosa bella sarebbe se appunto i giovani continuassero o cominciassero a puntare su se stessi, a crederci E il rischio invece è quello di sentirsi sempre in debito La cosa anche strana è che, si parla adesso anche del valore legale della laurea A credere e anche a smontare il concetto di laurea sono sempre gli adulti I giovani quasi la subiscono, prima come obbligo di conseguirla E dopo quasi come pecca persino curriculare perché iniziando a entrare nel mercato del lavoro troppo tardi Si ritrovano con i titoli in surplus No, sai, in me parla il sognatore che ancora si è convinto che Della concezione medievale dell'università per cui uno si laureava, studiava Per completare il cittadino e il credente Oggi naturalmente le cose non sono più quelle È giusto che la laurea abiliti anche alle professioni Ma per forza, alle volte il lavoro, la fatica, il travaglio e lo studio Possono non essere proprio così affini Comunque, io